Queste che vi mostriamo sono le foto della prima fase di vaccinazione agli over 80 effettuate ieri a Sanfili in provincia di Cosenza. Il comune guidato da Linda Cribari ha fatto da apri pista alla seconda fase della campagna vaccinale. È stato il primo paese della provincia di Cosenza a dare l'avvio al piano vaccinale dedicato agli over 80. C'è stata una partecipazione massiva perché abbiamo vaccinato ieri 93 persone, cittadine e cittadini, su 182 over 80. Io sono molto contenta di come i cittadini abbiano aderito alla campagna vaccinale e con senso di responsabilità si sono recati verso il centro sanitario. E questo è un grande successo per il comune di Sanfili e per tutta la Calabria perché è ovvio che è un comune virtuoso, è un comune che può dare l'esempio anche ad altri. In questa sede dell'azienda sanitaria nel centro storico di Sanfili entro sabato si concluderà l'immunizzazione degli anziani per poi proseguire con il calendario alle altre categorie della popolazione. Si è partiti autonomamente nell'interesse della comunità. Abbiamo assistito in questi mesi sia a livello nazionale che a livello regionale, anche locale, a tante promesse che poi non sono state mantenute. La Calabria è una regione commissariata, abbiamo una sanità commissariata con tante difficoltà. Però noi abbiamo attuato questo piano insieme agli organi preposti, abbiamo voluto fortemente che iniziasse la campagna vaccinale a Sanfili e abbiamo lavorato per raggiungere questo obiettivo. Ritengo che anche gli altri comuni, lavorando in sinergia, potranno ottenere lo stesso risultato. Grazie. Grazie.